Nonostante l'allentamento delle misure abbia portato ad una nuova inversione di tendenza nell'incremento del contagio, dopo oltre due anni di pandemia, il 30 aprile scade l'ultimo decreto con le regole per contrastare il Covid-19. Il Green Pass andrà in archivio e le mascherine al chiuso resteranno obbligatorie solo per salire sui mezzi di trasporto e partecipare ad alcune attività dove più alto è il rischio di contagio. Sui mezzi del trasporto pubblico, locale, autobus, metropolitane, tram, l'obbligo di mascherine FFP2 verrà prorogato dal 1 maggio in avanti. La stessa scelta si farà per aeree, navi e treni a lunga percorrenza. Le mascherine FFP2 resteranno ancora in tutti i luoghi di aggregazione sociale dove si sta a lungo in uno spazio chiuso con posti ravvicinati, quindi cinema, teatri, sale da concerto. Negli stadi dove si sta all'aperto le mascherine non saranno più obbligatorie. Nei palazzetti dello sport al chiuso invece le FFP2 resteranno obbligatorie ancora per qualche settimana. Sulle mascherine a scuola si va verso una conferma fino al termine dell'anno scolastico. Barbieri, parrucchieri e centri estetici sono tra le attività ritenute più a rischio per cui dovrebbe restare l'obbligo di mascherine FFP2 ancora per alcune settimane. Dal 1 maggio la certificazione verde resterà per dimostrare l'avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà più obbligatoria nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di trasporto. Niente passa anche per mense e catering continuativo, cinema, teatri, concerti, eventi sportivi, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale da gioco, feste e discoteche. L'unica eccezione riguarda gli esercenti, le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA.